Hai mai sentito un prurito improvviso e inspiegabile che sembrava trasmetterti un messaggio nascosto? Ti sei mai chiesto se dietro quella fastidiosa sensazione si nascondesse qualcosa di più profondo e significativo? Il prurito non è solo una reazione fisica, ma può avere significati spirituali profondi che hanno affascinato l'umanità per secoli. In questo video ti sveleremo i misteri dietro il prurito e ti guideremo attraverso le interpretazioni spirituali di questa comune esperienza. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. E ora, cominciamo! Immagina il tuo corpo come un tempio sacro, un luogo dove risiede la tua anima. Proprio come un tempio richiede manutenzione e attenzione, anche il nostro corpo invia segnali che vanno oltre il fisico, cercando di comunicare con noi. Questi segnali, se interpretati correttamente, possono offrire preziose indicazioni sul nostro stato interiore e sul nostro cammino spirituale. Ogni parte del corpo ha un significato specifico nelle tradizioni spirituali. Ad esempio, un prurito alla testa potrebbe indicare pensieri disordinati o la necessità di maggiore chiarezza mentale. Potrebbe essere un segnale che è il momento di meditare, riflettere e ordinare i propri pensieri. Un prurito al viso, in particolare intorno agli occhi, al naso o alla bocca, può suggerire la necessità di guardare più da vicino la nostra comunicazione e percezione del mondo. Forse c'è qualcosa che non stiamo vedendo chiaramente, o che abbiamo bisogno di esprimere in modo più autentico. Il prurito alle mani è spesso associato all'azione e alla manifestazione. Le nostre mani sono strumenti di creazione e di realizzazione dei nostri desideri. Quando prude una mano, può essere un segnale che siamo pronti a ricevere o dare energia. La mano destra, in molte culture, è associata al dare, all'azione e alla forza. Un prurito in questa zona potrebbe indicare che è il momento di agire, di prendere iniziative coraggiose o di manifestare qualcosa di nuovo nella nostra vita. La mano sinistra, invece, è spesso vista come il lato ricettivo e intuitivo. Il prurito qui può suggerire che è il momento di ricevere, di aprirsi a nuove intuizioni o di accogliere nuove opportunità. Il prurito ai piedi può avere significati profondi legati alla direzione e alla stabilità nella vita. I piedi rappresentano il nostro collegamento con la terra, la nostra base. Un prurito al piede sinistro può indicare la necessità di radicamento, di stabilità e di riconnessione con le nostre radici. Al contrario, un prurito al piede destro può suggerire che siamo pronti a fare un passo audace, a intraprendere un nuovo cammino o a superare un ostacolo. Nel corso dei secoli, diverse culture hanno attribuito significati unici al prurito. Nella cultura hindù, grattarsi il palmo destro è considerato un segno di buona fortuna per gli uomini e di sfortuna per le donne. Questo perché si ritiene che la mano destra sia legata all'energia maschile e all'azione, mentre la mano sinistra è associata all'energia femminile e alla ricezione. La differenza di interpretazione tra i sessi riflette l'importanza del contesto culturale nell'attribuire significati spirituali al prurito. La medicina cinese, con la sua ricca storia di osservazione del corpo umano, associa il prurito a specifiche zone del corpo con diversi organi e parti interne. Secondo questa tradizione, un prurito in una certa parte del corpo può riflettere uno squilibrio in un organo correlato. Ad esempio, il prurito all'alluce può indicare problemi alla testa o al cervello, mentre al mignolo può significare problemi al fegato o alla cistifellea. È cruciale prestare attenzione alla posizione e alla sensazione del prurito per comprendere il suo possibile significato e agire di conseguenza. Ma cosa fare quando si sperimenta un prurito? Quando sperimenti un prurito, prova a fermarti un momento e riflettere. Cosa stavi pensando o facendo in quel preciso istante? Quello potrebbe essere un messaggio per te, un invito a rallentare, a radicarti, a prendere una decisione importante o a liberare emozioni represse. Il prurito può anche essere una chiamata all'azione creativa. Le nostre mani, strumenti di manifestazione, possono pruderci quando siamo pronti a creare, esprimere e condividere la nostra energia con il mondo. La connessione tra corpo e mente è profonda e complessa. Spesso, le nostre sensazioni fisiche sono manifestazioni dei nostri stati interiori. Un prurito può essere un segnale del nostro corpo per attirare l'attenzione su qualcosa che stiamo trascurando a livello emotivo o spirituale. Le braccia, considerate estensioni del cuore, sono strettamente legate al corpo emotivo. Un prurito nel braccio può indicare che stai trattenendo emozioni irrisolte e che hai bisogno di esprimere i tuoi sentimenti in modo sano. Lasciare andare ciò che non ti serve più e fare spazio alla crescita e alla guarigione è essenziale per il benessere spirituale. Inoltre, le mani sono considerate canali di energia e guarigione. Un prurito nel palmo può indicare che sei pronto a ricevere o dare energia curativa favorendo pratiche di autocura come la guarigione con il Reiki. Questa connessione tra braccia, mani e creatività è particolarmente rilevante nella filosofia hindù, dove la dea Saraswati, simbolo di conoscenza, saggezza e arti, è rappresentata con uno strumento musicale. Questo simbolismo enfatizza l'importanza di usare le nostre mani per esprimere la nostra creatività e connetterci con il Divino. Quando senti prurito a braccia o mani, prendilo come un segnale per partecipare ad attività che nutrono il tuo spirito creativo e il tuo benessere emotivo. Puoi dipingere, scrivere una poesia o fare lavori manuali che ti portino gioia. Utilizza questa spinta come uno strumento per lo sviluppo personale, aprendo la porta a una vita più piena e in armonia. Il prurito alla schiena può essere particolarmente significativo dal punto di vista spirituale. La schiena rappresenta il nostro sostegno, sia fisico che emotivo. Un prurito in quest'area può indicare un bisogno di supporto o di rilasciare un peso emotivo che stiamo portando. Può anche suggerire una nostra vulnerabilità. In molte tradizioni, la schiena è vista come il luogo dove accumuliamo stress e tensioni. Un prurito in questa zona potrebbe essere un invito a liberarci di questi pesi, a chiedere aiuto o a rafforzare il nostro sostegno interno. Le gambe, invece, sono simboli di movimento e progresso. Un prurito alle gambe può indicare un desiderio o una necessità di avanzare nella vita, di esplorare nuovi percorsi o di cambiare direzione. Potrebbe anche suggerire che sentiamo un blocco o l'incapacità di muoverci verso i nostri obiettivi. Il prurito alle cosce, in particolare, può rappresentare una spinta a perseguire i nostri sogni con maggiore determinazione, mentre il prurito ai polpacci può indicare che abbiamo bisogno di rafforzare la nostra resistenza e perseveranza. Infine, la pancia, o addome, è spesso considerata il centro delle nostre emozioni e del nostro benessere fisico. Un prurito in questa zona può essere un segnale di agitazione emotiva o di stress. Potrebbe indicare che stiamo trattenendo emozioni non risolte o che abbiamo bisogno di elaborare sentimenti profondi. La pancia è anche associata al chakra del plesso solare, che è legato al potere personale e alla fiducia in se stessi. Un prurito in questa area può suggerire che è il momento di lavorare sulla nostra autostima e di affrontare le sfide con maggiore sicurezza. Ogni prurito, in diverse parti del corpo, porta con sé un ricco simbolismo che crea una connessione preziosa con il nostro essere interiore e il mondo. Ascolta, rifletti e agisci con intenzione per sfruttare questi segnali sottili nel tuo cammino verso l'autoscoperta e la realizzazione spirituale. E tu, hai mai sperimentato un prurito spirituale? Che spiegazioni ti sei dato? Hai trovato risposte in questo video? Non esitare a condividere le tue esperienze e pensieri nei commenti. La tua partecipazione è molto importante per tutta la nostra grande famiglia. Ti ringraziamo infinitamente per essere arrivato fin qui. Se il contenuto di questo video è stato prezioso per te, ti chiediamo di donarci il tuo prezioso mi piace e di iscriverti al canale Dose Mentale se non l'hai ancora fatto. Il tuo supporto è fondamentale per noi. Ricorda, il tuo corpo è un tempio. Ascolta i suoi messaggi e scopri la saggezza nascosta dentro di te. Ci vediamo nel prossimo video.